Certificare l'esistenza di almeno 200.000 invisibili, dare prospettive a settori fondamentali della società italiana, contrastare l'illegalità allo sfruttamento, elemento non secondario garantire con l'emersione un gettito aggiuntino di oltre un miliardo di euro l'anno che in questo momento storico lo Stato non può sottovalutare. Al netto delle polemiche politiche, le norme sulla regolarizzazione inserite nel decreto rilancio hanno il pregio di prendere diversi ficcioni con una fava. I settori lavorativi a cui si applica sono l'agricoltura, l'allevamento e la zootecnia, la pesca e l'acquacoltura, l'assistenza alle persone non autosufficienti e il lavoro domestico. Ma come funziona? La procedura prevede due iter. Nel primo sono i datori di lavoro a chiedere la regolarizzazione dell'immigrato, presentando domande di assunzione per via telematica all'indirizzo nullaostalavoro.dlci.interno.it. La presentazione delle domande va fatta dal 1 giugno al 15 luglio utilizzando il sistema di identificazione digitale Speed. Nel secondo sono invece i migranti, ma solo quelli che potranno dimostrare di essere stati impiegati in precedenza nei settori di cui sopra, a richiedere, sempre dal 1 giugno al 15 luglio, un permesso temporaneo di sei mesi per cercare lavoro. La domanda va presentata agli uffici postali. Per l'avvio della procedura, il cui costo ammonta a 130 euro, lo straniero deve essere in possesso del passaporto e di una documentazione che attesti l'attività lavorativa svolta. Contratto di lavoro, cedolino, estratto conto previdenziale, estratto conto bancario o postale dai cui risulti l'accredito dello stipendio, ecc. L'ufficio postale rilascerà allo straniero una ricevuta che gli consentirà di soggiornare in Italia e svolgere attività lavorativa nei settori indicati.